Ciao da Avsim, sentenza del collegio di garanzia per lo sport presso il CONI su Juventus Napoli che fa ancora discutere e che deve far ancora discutere anche perché siamo ancora in attesa delle motivazioni di questa decisione stringatissima pubblicata prima con un comunicato in cui è stato semplicemente detto quello che era l'esito del ricorso e poi appunto con un dispositivo che forse chiarisce anche meno il tutto disponibile sul sito del CONI dove tra l'altro ci sono anche altre decisioni precedenti che possono riguardare talvolta ricorsi relativi a sanzioni che comportano la perdita della gara una questione che è stata messa sotto osservazione un po' da tutti ma ritengo di essere stato tra i primi se non il primo a sottolineare che l'articolo 30,3 dello statuto della FIGC non consentirebbe il ricorso al collegio di garanzia per lo sport presso il CONI per tutte quelle controversie che comportino come sanzione la perdita della gara ma infatti il collegio di garanzia presso il CONI il collegio CONI per semplificare quando si pronuncia anche su perdita della gara talvolta si riferisce ad altre federazioni e siccome quello è lo statuto della FIGC riguarda soltanto il calcio sarebbe una questione a parte ma non è che io abbia trovato tutti questi precedenti cui aveva fatto ricorso, cui aveva fatto riferimento anche il Napoli nel proprio ricorso comunque senza andare troppo in confusione perché ci sono alcuni passaggi chiave, due o tre sostanzialmente che dobbiamo affrontare andiamo all'appunto da affrontare, prima però vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video compreso quello in cui commenterò la sentenza a motivazioni pubblicate che dovrebbero uscire, si dice, dopo l'epifania, quindi l'anno prossimo, tra una settimana, due o tre, non lo so anche perché a consultare come ho fatto il codice di giustizia sportiva del CONI e lo statuto del CONI dove si fa riferimento al funzionamento del collegio CONI non c'è scritto da nessuna parte quelli che sono i termini di base per la pubblicazione delle motivazioni una volta uscito il dispositivo normalmente i codici di procedura, parlo in generale, prevedono anche dei limiti temporali entro i quali gli organi e i giudici devono produrre le motivazioni delle sentenze e quindi accompagnare i dispositivi spiegando perché è stata presa una determinata decisione né nel dispositivo è indicato un termine entro il quale sarà pubblicato quindi siamo nella totale incertezza una cosa però è certa, una cosa è certa che questa decisione, almeno vista così, non ha né capo né coda non mi pronuncio eccessivamente nel merito perché appunto questa sentenza al momento è come se non esistesse però per tutta una serie di passaggi, anche procedurali era praticamente impossibile, praticamente impossibile arrivare all'accoglimento del ricorso del Napoli con buona pace di tutti quelli che si sono riempiti la bocca nell'immediatezza che ancora lo stanno facendo applaudendo a questa sentenza che non esiste, che non hanno letto denotando quindi evidentemente un pregiudizio e una malafede o se non c'è pregiudizio e non c'è malafede c'è tifo, che non necessariamente è tifo per la squadra di calcio ma può essere anche tifo contro la Juventus nel caso di specie o tifo per qualche altra situazione come l'imbarbarimento della giustizia sportiva o l'imbarbarimento del campionato di Serie A perché di quello stiamo parlando una decisione del genere infatti mette a repentaglio anzi non solo il campionato di Serie A ma tutte le competizioni di calcio perché potrebbe esserci un nuovo caso Juventus-Napoli con tutti gli strascichi davanti alla giustizia sportiva con tutte le incertezze, con tutti i rinvii e guardate che già solo un altro caso per la Serie A sarebbe drammatico per andare a recuperare poi la partita in calendario figuriamoci anche più di uno, figuriamoci una decina magari disseminati anche negli altri campionati visto che per esempio in Serie B sarebbe stato possibile che si verificasse qualcosa di simile ma il Frosinone per esempio ha ragionato in maniera diversa e parliamo allora del caso Frosinone Frosinone-Pordenone finita 1-1 e intanto è la notizia che si è giocata la squadra di Nesta è scesa comunque in campo aveva 14 giocatori positivi di cui il 14esimo è venuto fuori proprio nell'imminenza della partita aveva in panchina solo due portieri e un giocatore di movimento quindi per un totale di 14 uomini a disposizione aveva tutte le carte in regola per chiedere il rinvio della partita secondo il protocollo del 2 ottobre cioè quello che consente in presenza di 10 positivi riscontrati negli ultimi 7 giorni e con meno di 13 giocatori di andare a chiedere il rinvio anzi comunque con almeno 10 positivi a prescindere dai giocatori disponibili di chiedere il rinvio della partita per una sola volta ma in realtà non c'erano proprio tutte le carte in regola perché la situazione sarebbe venuta a creare a meno di 48 ore dal fischio d'inizio e quindi anche vedete quante situazioni formali che possono andare ad inficiare il comportamento tutto sommato corretto anche nelle intenzioni delle altre squadre di calcio in ogni caso il Frosinone furbizie non le ha cercate perché avrebbe potuto aggirare tranquillamente il protocollo del 2 ottobre come ha fatto il Napoli che non ha proprio preso in considerazione quel protocollo anche perché non avrebbe potuto farlo perché aveva solo due giocatori positivi quel 4 di ottobre anzi quel 3 che ha deciso di non partire con il protocollo che era già in vigore ma prendendosene diciamo approfittando di che cosa? della possibilità dell'intervento di un ASL che è intervenuta ovviamente in maniera del tutto spontanea autonoma ed indipendente è guai a dire a pensare che ci sia stato un qualche un qualche condizionamento da parte della stessa società Napoli questo chiaramente non è avvenuto fatto sta che il Napoli ha potuto ben beneficiare di questo intervento dell'ASL che però in questo momento noi non possiamo collocare nella sentenza CONI cioè chi dice guarda che il collegio CONI ha accolto il ricorso del Napoli nel punto in cui si fa riferimento al caso di forza maggiore sta dicendo una cosa che non può dire perché in questo momento quella sentenza non esiste e non solo non sappiamo se ha statuito questo con buona pace del Frosinone del Parma il cui presidente pure ha recriminato il fatto che loro furbizie non ne avrebbero mai cercate si sono presentati a giocare in una situazione in cui erano molto peggio rispetto al Napoli e non tornerebbero indietro cioè tornando indietro rifarebbero la stessa cosa come tra l'altro tante altre squadre per esempio il Genoa che sono rimaste anche in silenzio nei postumi di questa sentenza e che non hanno rivendicato nulla ma appunto la questione del caso di forza maggiore non solo ripeto forse non c'è nella sentenza ma se dovessimo scoprire che c'è una volta pubblicate le motivazioni io vi dico che molto probabilmente si tratterebbe ancora di più di una sentenza sbagliata di una sentenza abnorme perché il collegio Coni non avrebbe avuto il potere di scrivere una cosa del genere nella propria decisione basta andare a leggere il codice di giustizia sportiva del Coni ma anche lo statuto del Coni perché entrambi parlando del collegio Coni dicono che si può fare ricorso a questo organo solo per questioni di diritto solo per questioni di diritto ed anche per carente o mancante motivazione nel giudizio che si va ad impugnare che nel caso è quello della corte sportiva d'appello cioè se il giudice ha mancato di motivare oppure se c'è una violazione di diritto cioè una violazione procedurale una questione di legittimità di formalità non una questione di merito non solo ma c'è anche scritto nella normativa Coni quindi tralasciando il discorso che secondo lo statuto FGC che un minimo di vigenza dovrebbe pur averlo il Coni il collegio Coni avrebbe dovuto rigettare non nel merito ma dal punto di vista del rito il ricorso del Napoli dichiarandolo inammissibile perché non era possibile fare ricorso al collegio Coni secondo l'articolo 30,3 dello statuto FGC c'è scritto diceva invece nella normativa Coni che quella è sicuramente in vigore non può essere disconosciuta che il ricorso al collegio Coni si può fare soltanto per appunto questioni di diritto o per manifesta o per diciamo problemi relativi alla motivazione ma soprattutto che poi il giudizio del collegio deve essere necessariamente con rinvio all'organo di grado inferiore tranne nei casi in cui non ci sia più nessun accertamento di fatto da compiere ecco ma andare a valutare la sussistenza del caso di forza maggiore in questo caso è proprio un accertamento di fatto che non significa andare ad acquisire nuove prove significa andare a valutare il merito a valutare le prove di fatto che sono state acquisite quindi non era possibile per il collegio cioè se il collegio Coni ha accolto il discorso del caso di forza maggiore avrebbe dovuto rinviare alla corte sportiva d'appello della FIGC in nuova formulazione affinché secondo un principio di diritto indicato dallo stesso collegio Coni andasse ad emettere una nuova decisione facendo un ragionamento diverso sulla base degli stessi fatti una cassazione in questo caso senza rinvio non era possibile non sarebbe stata possibile il collegio Coni quindi ha probabilmente ecceduto nelle proprie prerogative cioè è andato o è andato oltre come invece il procuratore generale dello sport ha accusato la corte sportiva d'appello di essere andata oltre di aver fatto il passo più lungo della gamba chiedendo tra l'altro l'accoglimento del ricorso cioè pensate la procura del Coni che deve necessariamente essere diciamo possibile terza come anche il pubblico ministero nell'ordinamento penale però sostanzialmente dovrebbe essere contro il ricorrente nella maggior parte dei casi invece era a favore pensate era a favore ora questa situazione come si può come si può risolvere l'abbiamo già detto nel momento in cui la Juventus che si è ritenuta indifferente fin dal primo giudizio ma anche la FGC che invece inizialmente era diciamo parte parte in causa non si sono costituiti non hanno più la possibilità di impugnare questa decisione quindi questa decisione può essere anche la più sbagliata della storia del diritto mondiale universale non sarà modificabile da nessuno pensate che situazione aberrante il tutto perché non si è costituito chi avrebbe potuto poi impugnare e anche perché la procura invece di contrapporsi al ricorso del Napoli che non doveva proprio essere presentato e c'erano mille motivazioni per respingerlo si è messa in aderenza allo stesso ricorso per cui adesso non può certamente andare a fare ricorso a sua volta impugnando una sentenza che è stata scritta sostanzialmente anche con la sua firma cioè con il favore con il sostegno con l'aderenza appunto della procura e quindi siamo di fronte ad un possibile errore clamoroso in termini di diritto che può tra l'altro anzi ha già creato un precedente gravissimo a patto che altri club eventualmente trovino altre ASL disposte ad intervenire come hanno fatto le ASL di Napoli bloccando ipoteticamente se veramente ci fu un blocco ma io credo onestamente di no le squadre nel proprio territorio per questioni appunto legate alla non diffusione dell'epidemia alla non quindi all'accontenimento del contagio ma a parte il discorso dell'intervento dell'ASL diciamo si è creato un precedente che come ha detto anche Pirlo ma come hanno detto anche tanti di altre squadre non necessariamente i giuventini va a mancare di rispetto a quelle che sono state le altre squadre che sono invece andate a giocare regolarmente senza nessun tipo di appiglio ma appunto non è soltanto questo perché c'è anche un'altra questione a margine di cui volevo parlarvi ecco a parte che sintetizzando poi il discorso è che il ricorso del Napoli era stato presentato al collegio Coni poi veniamo ad una questione che riguarda appunto il Coni con 4-5 5 possibili 5 motivazioni per cui non era necessario il rinvio e anche su questo mi faccio una domanda cioè il Napoli ha fatto ricorso specificamente non per ottenere punto e basta di aver ragione ma di aver ragione senza rinvio per quale motivo senza rinvio perché voleva che fosse proprio il Coni il Napoli a decidere in maniera definitiva che non si tornasse indietro che urgenza aveva il Napoli di non tornare indietro l'obiettivo del Napoli non era quello di avere ragione a tutti i costi di avere ragione comunque e se per aver ragione fosse stato necessario tornare alla Corte Sportiva d'Appello come probabilmente sarebbe stato necessario visto il Codice di Giustizia Sportiva del Coni perché non chiedere comunque sia l'accoglimento del ricorso anche con rinvio invece Napoli ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio ai sensi dell'articolo 61,1 del Codice di Giustizia del Coni ai sensi delle macroscopiche illogicità della sentenza che in realtà pare non ci siano onestamente perché c'era nessun'altra discrezionalità per cui rinviando non sarebbe stato possibile fare nient'altro per la Corte Sportiva d'Appello quindi sarebbe stato un rinvio inutile per questione di celerità e per tutti quanti i precedenti che onestamente io non ho trovato nei casi in cui appunto casi in cui il collegio Coni già pare si fosse pronunciato in ipotesi simili proprio per l'annullamento senza rinvio per l'accoglimento meglio del ricorso senza rinvio ecco a parte la domanda che resta aperta perché il Napoli ci teneva così tanto che fosse proprio il collegio Coni a decidere che non ci fosse un rinvio alla Corte Sportiva d'Appello FIGC nuova formulazione veniamo ad una questione appunto che riguarda il Coni perché avrete letto che la federazione italiana quindi il Coni italiano rischia o meglio l'Italia di essere presente alle Olimpiadi di Tokyo senza inno e senza bandiera per una sanzione del CIO una cosa gravissima una cosa gravissima di cui si sta parlando se ne sta parlando perché ne è intervenuto anche Malagò presidente del Coni perché la questione è in questo momento subiudice diciamo cioè il CIO deve prendere una decisione ma ha già fatto sapere all'Italia intesa come governo italiano che deve intervenire sulla vicenda altrimenti rischia appunto questo tipo di sanzione che sarebbe gravissima che sarebbe deprecabile il punto è che secondo il CIO il Coni a livello strutturale di come è organizzato l'ordinamento sportivo italiano non è indipendente non è abbastanza indipendente il Coni nella sua formulazione nella sua organizzazione ed è una questione che deve risolvere il governo centrale italiano Malagò ne ha parlato ha detto a Giuseppe Conte in formato di questa cosa ci lavoreremo purtroppo abbiamo anche le elezioni a maggio poi appunto ci sono altri appuntamenti nel calendario nell'agenda anche internazionale del CIO quindi siamo in un tour de force siamo sotto pressione eccetera il punto però è questo cioè la notizia è già solo questa per il CIO il Coni non è abbastanza indipendente e allora di cosa stiamo parlando su questa sentenza? ripeto io non sono dell'idea che sia stata una sentenza politicizzata io sono dell'idea che sia stata una sentenza abnorme cioè una sentenza che non può avere mai nessun tipo di fondatezza poi andremo a vedere quelle che sono le motivazioni e sarò felice di essermi sbagliato ma questo proprio questo tipo di decisione non trova nel diritto sportivo italiano nessun tipo di appoggio cioè non era proprio possibile accogliere il ricorso del Napoli non sarebbe stato possibile in nessun caso in nessun caso e ripeto quelli che dicono il contrario che dicono che bella sentenza a parte il fatto che la sentenza ancora non esiste perché non ci sono le motivazioni probabilmente lo dicono a prescindere perché non si può trovare un solo motivo per accogliere il ricorso del Napoli che invece sarebbe stato da respingere ripeto per manifesta inammissibilità a causa della non proponibilità non proponibilità dico però che nel momento in cui il CIO dice che il CIO non è abbastanza indipendente beh allora capite che c'è un problema c'è un problema che è stato palesato anche dal presidente della FGC Gabriele Gravina che sulla sentenza non ha detto quasi nulla ha solo difeso i suoi organi di giustizia dicendo i giudici della FGC con tutte le loro articolazioni sono preparati sono competenti e sono persone anche indipendenti quindi hanno la loro dignità nel mettere le loro decisioni come a dire state calmi adesso non andate a dire che il giudice sportivo e la corte d'appello hanno emesso delle sentenze fuori luogo e ab normi esse stesse invece di quella del CONI non ha parlato ripeto Gravina della decisione del CONI del collegio CONI si è limitato a difendere i propri organi di giustizia e questo ci può stare però già fa capire una contrapposizione che si aguisce ancora di più nel momento in cui lo stesso Gravina ha anche detto che è un po' diciamo compromettente è un po' problematico il fatto che di recente molto spesso il collegio CONI accoglie i ricorsi senza rinvio cioè Gravina ha detto sarebbe il caso di ritornare ad utilizzare lo strumento del rinvio proprio per questo tipo di casi qui che appunto il collegio CONI non ha utilizzato ed è questa la domanda è questo il punto se vogliamo essere d'accordo seppur vogliamo ma non possiamo essere d'accordo con il contenuto della decisione del collegio CONI cioè l'accoglimento del ricorso di Napoli ci dobbiamo chiedere perché è stato fatto senza rinvio perché sarebbe stato da fare questo il collegio CONI avrebbe dovuto dire accoglie il rinvio accoglie il ricorso e di conseguenza per effetto rinvia alla corte sportiva d'appello FIGC in nuova formulazione affinché si uniformi a questo principio di diritto deve argomentare deve motivare in merito alla sussistenza ritenendo la sussistenza del caso di forza maggiore non era possibile la sostituzione così automatica in questo specifico punto di decisione da parte del collegio CONI perché si tratta di un altro accertamento di fatto su questo credo che non ci siano dubbi perché bisognava andare a rivalutare una questione di fatto non una questione prettamente di diritto oltre che sicuramente una cosa la sentenza della corte sportiva d'appello su Juventus Napoli non aveva e cioè carenze di motivazioni di una cosa non era carente di motivazioni era una motivazione sovrabbondante che se vogliamo travalicava e che tra l'altro va detto che il ricorso del Napoli sarebbe stato anche da dichiarare inammissibile per motivi che vi avevo spiegato e cioè che il Napoli aveva sbagliato il ricorso al giudice sportivo di conseguenza non avrebbe potuto fare ricorso sempre ai sensi di un diritto sportivo che ormai è stato messo sotto i piedi che non vale più nulla soprattutto l'articolo 30,3 dello Stato FGC però queste sono questioni di cui ho parlato in precedenza quindi per fare la sintesi capite che ci sono tante questioni problematiche relative alla sentenza CONI ci sono tanti problemi in questo momento che riguardano il CONI c'è anche un discorso di indipendenza c'è un discorso di contrapposizione con la FGC c'è un discorso di precedenti che si è venuto a creare ma ci sono anche squadre che non solo rispettano le regole ma non provano neppure ad essere furbe o viceversa a seconda di quello che credete che sia più importante non fare i furbi o rispettare le regole che poi diciamo che sono due cose sostanzialmente uguali grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti sulla vicenda abbiamo ancora tempo per andare a conoscere il contenuto della sentenza a stenersi giudizi diciamo appunto pregiudizi e in malafede e mettete like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti